Ciao amici! Se avete figli piccoli non potete far perdere loro questa avventura tra i boschi con cavalieri, gnomi, fate e streghe. A 27 chilometri da Piacenza vi è il castello di Gropparello. È immerso nel verde, sopra uno sperone a picco sul torrente. Magnifico esempio dell'arte della fortificazione. Nel bosco circostante è aperto il Parco delle Fiabe, primo parco emotivo d'Italia per bambini. Nel Parco delle Fiabe i vostri figli entreranno nella magica atmosfera medioevale di cavalieri, fate, elfi e streghe. Accompagnati da guida in costume lungo il percorso, i ragazzi verranno coinvolti nell'immaginario fiabesco del Medioevo. I ragazzi vivranno una fantastica ed entusiasmante avventura insieme ai personaggi del bosco. Verranno vestiti da cavalieri e prenderanno addirittura parte ad una battaglia contro orchi e streghe. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!